e siamo tornati questa pausa così breve ci ha riportato in merito a uno stato esistenziale mi preparo per la seconda parte profonda sempre con Gianni con Valerio e Flavio colpo di scena è tornato Flavio Flavio Santanastaso è di nuovo eccomi la nostra sorpresa allora visto che ho tornato Flavio a questo punto che succede? gli appiopperei la presentazione dell'ospite addirittura è una punizione ma questo è un onore anche perché è pieno di nomi in inglese allora è una punizione vai Flavio presenta il nostro ospite vado a vedere chi conosceremo oggi oggi conosceremo l'Ires leader mondiale nel settore dei distillati analcolici insieme alla responsabile delle pubbliche relazioni Italia Valeria Carbone non hai perso lo smalto dottoressa Carbone benvenuta grazie grazie allora partiamo subito dalla domanda forse basica che viene in mente come è nata questa idea proprio semplice semplice di realizzare distillati analcolici è una curiosità che avevo un po' da un po' di tempo innanzitutto il mercato dei distillati analcolici sta crescendo sempre di più perché cresce la domanda in quanto ci sono tantissimi motivi per cui sta sviluppandosi un mercato nuovo che può essere quello legato semplicemente a una questione culturale a una questione di salute o anche semplicemente un wellness in qualche modo ma oggi dottoressa quanti distillati analcolici avete realizzato e soprattutto quali i più apprezzati così me li segno a questo momento la gamma è di oltre 15 distillati in Italia ce ne sono un po' meno in questa fase però stiamo crescendo stiamo cominciando a importarli anche nel mercato Italia e ci sono poi parecchie altre sorprese arriveranno ad essere molti di più entro qualche mese non di più ah chissà saranno numeri interessanti vedo delle testoline che cominciano a muoversi curiose vedo un Valerio super concentrato Flavio che è carichissimo Gianni sempre sul pezzo Valerio sei pronto? vai Valerio io ora ho una domanda parto la premessa sono un estimatore dei distillati questo ammetto la mia colpevolezza io le chiedo come si fa a ricreare artificialmente le fragranze di un bourbon o la distinzione tra un bourbon e un whisky classico torbato come riuscire a farlo artificialmente non è facile la fermentazione porta anche a un processo alcolemico come fate per creare questi distillati analcolici che dovrebbero avere le stesse fragranze di un bourbon o un whisky o di qualsiasi altro distillato un po' più approfondito viene eliminato l'alcol dopo il processo di distillazione è molto semplice sempre Ernest Hemingway quando parli di queste cose Flavio che bel sorriso che hai sei pronto per la domanda sono pronto ci sono ho sentito prima nominare fattori culturali ecco io mi sono sempre un po' informato e ho visto come in paesi come l'Afghanistan le Maldive l'Arabia Saudita l'utilizzo di bevande alcoliche appunto è proibito e nasce anche dall'esigenza di andare contro a questi paesi appunto la creazione di bevande non alcoliche assolutamente sì si tratta di una delle delle ragioni per cui è così importante che ci sia un prodotto che racconti un po' l'eleganza di un distillato senza avere però le caratteristiche che sono quelle negative culturalmente quindi nel caso in cui si parli di motivi religiosi o motivi culturali diversi è chiaro che un distillato non alcolico non rientra in quelle che sono le bevande o comunque nel range di quelle sostanze che non possono essere assunte Gianni passiamo al nostro Gianni volevo chiederle quali sono le caratteristiche più apprezzate dai consumatori innanzitutto il fatto che sia una gamma molto ampia per cui si possono creare cocktail differenti a seconda dei momenti quindi andando da un classico gin tonic piuttosto che spostandosi verso un Milano-Torino un Negroni quindi ci sono un po' tutti i cocktail più iconici della tradizione in questo caso italiana ma potrebbe essere una tradizione internazionale perché sappiamo quanto l'Italia abbia condizionato la mixology in tutto il mondo e i più apprezzati ecco sono sono sicuramente i più classici senz'altro però la cosa interessante è che l'Ires può essere utilizzato o esclusivamente quindi portando un prodotto un cocktail che sia totalmente amalcolico oppure miscelandolo con distillati alcolici semplicemente per abbassare un po' la gradazione di possibilità abbiamo capito che è un mercato in rapida crescita è un mercato in rapida crescita e ci fa capire quanto siano in rapida crescita anche le domande che vuole fare Valerio eccone un'altra vai Valerio io mi chiedevo proprio sulla mixologia come un vostro faccio un esempio prendo il più classico dei cocktail che ci viene in mente in Manhattan che è uno dei più storici come fate voi a creare la fragranza di un rai senza poi mentre non si abbina neanche bene con la spanatura ma in caso sé ma come riuscite proprio voi a rendere in maniera così rimuovendo l'alcol un liquore che dovrebbe che dà proprio è l'alcol che dà il punto di forza al cocktail sarebbe un po' a rischio alcune scuole mixologia la guarderebbero con un occhio un po' scettico voi come reagire a questo punto come pensate che questa vostra alternativa alcolica sia soddisfacente che rispetti i requisiti minimi di un cocktail del genere i requisiti minimi sicuramente sì li rispetta è chiaro che manca la componente alcolica questo è evidente se non distillato un alcolico dunque quell'ebrezza e quel twist che dà esclusivamente l'alcol non c'è in questi prodotti ma il sapore è lo stesso quindi l'obiettivo di Lairess è proprio quello di sviluppare un prodotto che è mescolato miscelato possa ricreare lo stesso tipo di sapore l'alcol non si riproduce dunque l'effetto che ha l'alcol in bocca o comunque l'effetto che ha nel risultato di un cocktail non è non è pensato ma si tratta soltanto di un risultato non effimero evidentemente ma un plus in questo caso noi non abbiamo l'alcol ma abbiamo lo stesso sapore che si ottiene una cosa interessante Pina perché mi hai scritto che dal 2021 ad oggi l'azienda è entrata in 20 nuovi paesi quali sono Medioriente Medioriente Cina e allora cosa avete provato tra l'altro non è semplice immagino riuscire in un'impresa del genere cioè entrare in un mercato medio orientale o comunque anche asiatico è abbastanza complicato cosa avete provato come vi anticipavo il fatto che l'IRES costituisca un'alternativa è diventato un elemento di forza assoluta perché andiamo a toccare quelle che sono le caratteristiche appunto sia culturali sia sociali di una popolazione che magari non ha tutta questa attitudine rispetto all'alcol e in questo caso parlo del Medio Oriente evidentemente invece per quanto riguarda la Cina c'è un'alternativa quindi come vi dicevo l'IRES propone sia la linea la linea è totalmente analcolica ma si propone sia come alternativa analcolica alla normale drink list quindi parlando di cocktail sia come eventuale alleggerimento perché il valore aggiunto che comunque ci ha fatto fare anche un bellissimo lavoro in mercati esigenti come l'Italia perché altri mercati sono molto esigenti da altri punti di vista ma sul lato gusto e sul lato diciamo di tradizione l'Italia è sicuramente una bellissima sfida e alleggerendo il livello alcolico la gradazione alcolica di un cocktail ci possiamo permettere di ordinarne uno in più magari totalmente un alcolico oppure alleggerire una degustazione di più cocktail quindi questo rimanendo sempre nell'ambito di un bere responsabile quindi questa cosa ci ha portato ad essere interessanti per dei mercati che si fanno forti di questa risposta approfondiamolo questo tema interessante sicuramente come vi dicevo il mercato del Medio Oriente che ha una questione di cultura che non ammette il consumo di alcol quindi lì diciamo che è abbastanza semplice la risposta per quanto riguarda invece gli altri mercati il bere meno alcol sta diventando una tendenza ovunque quindi il no alcol o low alcol è piuttosto diffuso in qualunque paese anche se pensate molto facilmente al cocktail bar dove andate la sera a Roma in questo caso ma potrebbe essere in qualunque posto d'Italia in generale adesso i mixologist non utilizzano una quantità massiccia di alcolico di alcol in generale perché rovinerebbero l'esperienza come nella cucina anche la mixology in questo momento sta prendendo una nuova piega quindi parliamo a professionisti che vogliono quindi far vivere un'esperienza al proprio pubblico e non stordirlo con un alcol che magari non è neanche di qualità quindi tutta la selezione va in quella direzione a maggior ragione l'Aires permette di abbassare il livello alcolico e di offrire un'esperienza completamente diversa anche a chi non si può passiamo la palla al nostro Gianni che ha una curiosità da un po' di tempo vorrei chiederle come impostate la campagna pubblicitaria dei vostri prodotti soprattutto complimenti per la grafica delle bottiglie che è veramente molto bella se ne intende di grafica Gianni quindi ricevere un complimento da lui non è poco non è poco grazie intanto e piace molto anche a noi quindi stiamo lavorando sempre più nel miglioramento delle bottiglie e del pack la campagna pubblicitaria in questo momento non è una campagna sviluppata a livello globale a livello globale c'è una una serie ci sono una serie di guidelines ma ogni paese poi sviluppa la propria in questo caso sul nostro mercato stiamo cominciando piano piano abbiamo comunque i digital quindi i social di riferimento che sono specialmente il canale Instagram e quello Facebook che comunque sono canali globali che noi dirottiamo poi ovviamente sul mercato e attiveremo sicuramente delle campagne prossimamente ma a 2022 altre due domande Flavio e poi Valerio una domanda che si ricollega un po' a quella di Gianni quindi abbiamo sentito parlare del pack 100% riciclabile e bevande ho letto anche vegane quanto è importante per voi l'inclusività ma anche il concetto di sostenibilità e poi in riferimento alla domanda di Gianni perché anche io apprezzavo molto le immagini appunto delle bottiglie c'è una motivazione stavo vedendo ci sono molti animali c'è una motivazione dietro a questa scelta? Cominciamo con la prima l'inclusività è sicuramente importantissima come è evidente facendo appunto parlando di no alcol e volendo allargare il bacino d'utenza anche a chi solitamente non consuma alcolici evidentemente per noi questo è un valore molto importante ugualmente lo è la qualità che resta sempre al primo posto e la sostenibilità che è un tema in questo momento direi molto stressato perché qualunque azienda parla di sostenibilità noi cerchiamo di farla nel modo migliore possibile riducendo tutto quello che non serve quindi cercando realmente di dare un apporto di sostenibilità reale per quanto riguarda invece la parte del del PEC che è quello che qualifica in qualche modo le nostre bottiglie l'Aires è un uccello che vive in Australia quindi è da lì che è partito il nome e tutta la campagna tutta la campagna di PEC che noi portiamo avanti ricorda questo tipo di suggestione quindi noi lavoriamo su queste icone appunto perché sono legate al brand al nome del brand chiudiamo con la domanda di Valerio io ce ne avevo due di domande veloci veloci un globale allora la prima domanda è lei parla degli effetti analcolici del cocktail però io mi chiedo il bravo mixologo il bravo bartender è proprio attraverso la mixologia che va a eliminare l'impatto alcolico del cocktail cioè un cocktail fatto a regola d'arte non si sente il sapere dell'alcol perché l'annullamento è causato dall'insieme dei prodotti di ciò io mi chiedo se la mixologia già risolve questo problema sì ok da effetti alcolemici l'alcol in effetti un cocktail però a livello di sapore perché un bartender perché un barman perché un mixologo dovrebbe preferire voi e la seconda domanda invece mi chiedo interfacciandosi nel settore dei paesi arabi pensiamo all'Arabia Saudita o ai Emirati Arabi cui è già presente nella componente analcolica tipo l'acqua di rose che è famosa nei gran premi di Formula 1 che alla fine viene data ai piloti in sostituzione dello champagne voi come interfacciate con la serie di prodotti locali già esistenti la Ferrari è da un po' che non beve è da parecchio forse purtroppo allora innanzitutto la parte ovviamente dei mixologist quindi la loro professionalità non viene messa in discussione dall'Aires noi produciamo qualcosa che possa sostenere il loro lavoro e che possa banalmente anche offrire allo stesso bartender o mixologist un'ulteriore possibilità di lavorare quindi noi siamo il one more quindi il cocktail in più magari da consumare nel momento in cui c'è già stata un'esperienza importante siamo il prodotto che serve per alleggerire ulteriormente quella che è una richiesta da parte del pubblico da parte banalmente dell'esperienza che si vuole fare quindi questo non va a impattare sul lavoro di misura che già il bartender va ad effettuare ma semplicemente va ad alleggerire il tasso alcolemico di un cocktail quindi è permettere un'esperienza semplicemente più fruibile chiaro, chiarissimo benissimo io direi che dobbiamo salutarla la dottoressa Carbone abbiamo esaurito tutte le domande la ringraziamo grazie di cuore salutiamo la dottoressa Davide Carbone responsabile Public Relations Italia a presto, grazie 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 a voi allora io vorrei fare un po' di ordine una riflessione a testa un po' di ordine facciamo ordine mi piace fare ordine Gianni tutto il giorno che lo ripedi voglio fare tutto ordine Gianni vai una piccola riflessione sono stato molto colpito dai distillati analcolici perché io sono completamente astemio quindi potrò togliermi la soddisfazione di verne uno hai trovato il tuo drink finalmente finalmente Valerio no sinceramente no io sono molto più conservatore rispetto a te i cocktail sono rigorosamente alcolici e fatte con la tradizionale maestria di un bravo bartender carità non lo metto in dubbio non discutiamo mi sono anche un po' spaventato proprio tu sei un mix io sono un mix dai io sono l'equilibrio il giusto equilibrio io dipendo dai momenti oddio ci sono momenti in cui vorrei però dai è giusto compensare però abbiamo la possibilità chiediamo al professor Ricci ce l'abbiamo ragazzi ce l'abbiamo il professor Ricci non ce l'abbiamo ancora in attesa che si colleghi quindi a questo punto approfondisco io il tema perché abbiamo notato dei numeri che però sono molto interessanti da analizzare perché abbiamo visto l'Ires diffuso in 60 paesi 50 dei più importanti rivenditori però caro Valerio io te lo dico secondo me questo è un mercato che avanzerà quello penso anche io inevitabilmente la fetta degli estemi sarà sempre grande giusto se siano pure da presentarli ma secondo te riguarda le nuove generazioni? no non penso più di no io penso che la nuova generazione deve imparare a bere bene perché l'alcol c'è sempre stato da 4 mila anni a questa parte eppure la nostra generazione che è la generazione Z penso la N non lo so deve imparare a sapere bere un cocktail a regola d'arte anche se costa quei 5 10 15 euro in più non è importante beri un cocktail lo bevi bene e non stai male il giorno dopo quale strada per il futuro secondo te Flavio? secondo me invece ha una buona strada per il futuro ma non soltanto in Italia abbiamo sentito anche altri paesi e può essere una valida alternativa a paesi dove vi sono blocchi ancora culturali e religiosi dove appunto le bevande alcoliche ancora non possono essere utilizzate perché è proprio vige proprio un divieto sopra quindi secondo me hanno un futuro sia per le generazioni più giovani che per tutti allora noi dal futuro torniamo al nostro presente perché tra le certezze di futuro lavoro c'è il professor Ricci è possibile professore come sta? buon pomeriggio bene molto bene professore Ricci è tornato Flavio è tutto il suo splendore Flavio Santonastaso salve saluto 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 asfettosamente grazie partirei con le domande dei ragazzi ci sei Flavio sei pronto? inizio io allora professore lei cosa ne pensa appunto di questa distinzione tra l'uso di bevande alcoliche e non alcoliche tra i giovani e tra le generazioni appunto che si stanno affacciando a questo mondo e a questa novità di bevande non alcoliche anche il mio auspicio è che si possano diffondere queste bevande però nutro anche dei dubbi ahimè è un auspicio perché c'è poco da fare ragazzi andrebbe ricordato fino a 18 anni anche un bicchiere d'alcol fa male fa male perché l'etanolo interferisce con il normale funzionamento del cervello ora è chiaro che se poi anziché non bere nulla se bevi mezzo bicchiere beh pazienza però i nostri ragazzi a partire dai 12 anni special sabato sera non bevono certo mezzo bicchiere di super alcolici e le conseguenze sono veramente letali quindi ecco io sarei molto contento se si diffondesse tra di loro l'abitudine di bevande come quelle di cui avete parlato però i ragazzi ricercano altro quando stanno insieme e questo altro è anche proprio l'alcol che li porti a quella condizione di sballo come dicono loro e che non può essere certo procurata da una bevanda analcolica Valerio tu ti trovi in linea con il professor Ricci parzialmente innanzitutto buonasera professore buonasera non mi trovo praticamente d'accordo con lei si d'accordo che i ragazzi sotto i 18 anni non devono bere tant'è vero che i locali dovrebbero impedire ai ragazzi sprevisti documenti oppure che sono parzialmente più piccoli di non accedere questo è il primo punto basta seguire la normativa legislativa ma un altro punto che io dico dobbiamo istruire ragazzi a consapevolezza di cosa vuol dire bere e io mi ricordo questa è pure educazione familiare io mi ricordo che bevo un bicchiere andavo e prendevo la macchina mi sono sentito in colpa per due anni però è l'educazione familiare che ti deve inculcare a non bere e se devi bere bere bene e saluto consapevolmente questo è il punto insegnare ragazzi è d'accordo professore l'educazione rimane sempre centrale l'educazione in famiglia noi l'abbiamo spesse volte ripetuto purtroppo però dobbiamo prendere atto che molti dei nostri giovani sfuggono al controllo dei loro genitori per il semplice fatto che i loro genitori in casa non ci sono di conseguenza se la figura genitoriale non c'è non ha neppure modo di dire guarda se bevi prima dei 18 anni le conseguenze potrebbero essere elettrali e i numeri ci dicono che nella fascia come dicevo dai 12 ai 25 anni il consumo alcolico è esagerato è anche un fatto di costume parliamoci chiaro ne sono stato testimone perché con i primi anni 80 quando ero un adolescente che si è passati diciamo dal bere all'interno del pranzo della cena al bere al di fuori dei pasti no noi tutti ricordiamo poi è diventata anche un'espressione un modo di dire la Milano da bere la Torino da bere la Roma da bere perché ecco i primi anni 80 che anche la pubblicità ha veicolato l'immagine del divo non più con la sigaretta in bocca ma col bicchiere in mano e ragazzi ormai crescono all'interno di questo clima e di questi messaggi e torno a dire professore d'altronde l'immagine iconica del film di Grande Gatsby è chiara a tutti vai Gianni con la tua domanda sì volevo chiederle secondo lei professore quale sono le motivazioni più profonde che spingono i più giovani ad avere un rapporto con l'alcol così disagevole beh da un lato vi è sicuramente una tendenza forte all'emulazione all'emulazione dell'altro bevono i compagni e bevo anch'io ma la ragione di fondo del bere e quindi poi dell'emulare che beve è che chiaramente il piacere che il bere produce è un piacere anestetico cioè che comporta non una minor ma non una maggior ma una minor partecipazione alla vita e questo cosa significa? Significa che la timidezza la paura il non sentirsi all'altezza ad esempio nel corteggiare le ragazze o nell'essere simpatici ecco tutto questo viene meno quindi l'alcol è diventato uno strumento fondamentalmente per mettere a tacere le proprie insicurezze le proprie paure attenti all'interno di una società che non perdona certe paure certe debolezze una società che prima o poi andrà cambiata mi farebbe piacere chiedere anche professor Ricci la scuola cosa fa in questo senso come si comporta? La scuola cerca di informare cerca di informare già a partire dal viennio e ecco da questo punto di vista posso dire che finché ai ragazzi si dice come a volte è stato detto guarda alla lunga ahimè il consumo si parla sempre di un consumo eccessivo di alcol di sborni ripetute nei fini di settimana ecco dicevo finché si fa presente ai ragazzi guarda un'assunzione troppo alta di alcol può determinare anche l'insorgere di tumori loro ti dicono beh ci penserò domani ma quando dai alla mano gli dimostri che uno è compromesso il tuo sviluppo cerebrale due ci sono casi di pesità e da ultimo il consumo di alcol è la causa principale di morte perché correlato ovviamente agli incidenti d'auto a quel punto iniziano a riflettere iniziano a pensare Valerio un'ultima domanda un'ultima domanda io ho apprezzato molto il suo discorso che ha fatto sull'esempio una volta c'era il cowboy con la sigaretta in bocca e pertanto era un punto di riferimento per i giovani poi quel punto di riferimento si è evoluto in James Bond con i Martini e poi infine siamo arrivati oggi il punto di riferimento qual è oggi dell'alcol dell'uomo che beve alcol e che si ubriaga come veramente in maniera di scena lei pensa dovrebbe essere proprio mezzi di comunicazione a sensibilizzare ragazzi anche in maniera più responsabile anche in maniera più studiata approfondita perché quello è il punto cruciale secondo me un conto è bere la vodka liscia un conto è bersi magari un cocktail studiato elaborato che si ha lo stesso effetto alcolemico però allo stesso tempo non fa male come un liquore un distillato puro chiarissimo professore lapidario perché siamo quasi in chiusura e si appunto il problema è che ragazze non sanno aspettare perché nessuno qui tra noi come dire nega o contesta la bontà del bere però ecco prima torno a dire di 18 anni è pericoloso poi il resto ricordiamocelo per il resto il bere è un grande piacere che per secoli ha accompagnato specie nell'area mediterranea il nostro pasto e la nostra cena ma l'ha fatto responsabilmente lanciamo questo messaggio e noi responsabilmente salutiamo il professore Francesco Ricci grazie professore a settimana prossima grazie grazie di cuore come sempre grazie a tutti arrivederci grazie anche a te Tommaso questa volta ti anticipo perché davvero sei fondamentale importantissimo per la buona riuscita di questo programma qui teniamo davvero tanto perché le puntate ormai non riuscirei nemmeno più a contarle già non riesco a contare fino a 10 uso le mani figuriamoci arrivare a tutte queste puntate piccola premessa tutti i presenti qui in studio sono stati tamponati per il merito alla normativa anti coronavirus ma comunque anche se tamponati vanno ringraziati Valerio Flavio e Gianni grazie e grazie alla prontissima regia di Manuel Mazzei e Rachele Abeiano oggi veramente straordinari anche dietro le telecamere e soprattutto grazie a voi gentili e cordiali delle spettatori e come sempre settimana prossima avrete una nuova puntata di Futuro Lavoro ciao ciao